Si rinnova l'appuntamento dei giovedì della confraternita, incontri settimanali che si terranno presso la chiesa del suffragio a partire dal 22 giugno fino al 21 settembre con il patrocinio del comune in collaborazione con la BCC di Fano. Quest'anno gli eventi del giovedì saranno interamente dedicati alla storia della città della fortuna, dalle sue origini romane alle sue ricchezze culturali, storiche e artistiche. Come si svolge quest'anno la manifestazione? Tutti i giovedì alle 21 ci sarà una conferenza, la conferenza che parlerà quest'anno della città, della città storica, della Fano, dei fanesi, delle città che hanno vissuto un periodo di nobiltà, infatti parliamo di palazzi, di architetti, di strutture importanti da un punto di vista architettonico e quindi ci sarà poi anche l'inserimento di quello che è la fanesitudine con la poesia dialettale. Ci sono degli storici dell'arte, ci sono architetti, tutta gente diciamo fanese. Parliamo dei miracoli del Signorin, faccio per dire il vescovo Giovanni Tonucci che è un personaggio, il nostro diciamo sacerdote spirituale della confraternita, però lui tratterà i miracoli del Signorin in dialetto fanese, ma che sono ecco un'interpretazione dei miracoli del Signore. Altri ci sono architetti, Remigio Bursi che è un architetto, il conte Filippo Lupo Bracci che è uno storico, Claudio Giardini che è uno storico dell'arte, tutti personaggi abbastanza importanti credo. In che location si svolgeranno gli eventi? Gli eventi si svolgono tutti qui nella nostra bellissima chiesa del suffragio, la chiesa della confraternita. VCC di Fano sempre presente a queste bellissime iniziative? È un'iniziativa oramai che è storica e l'abbiamo sempre sostenuta perché è un momento di crescita e sicuramente gli argomenti trattati, ho visto anche in quest'anno, sono tutti argomenti che hanno per la nostra città un'importanza, quindi le sosteniamo. Un evento che attraverso i racconti di storici, architetti e religiosi vuole preservare il dialetto e dedicare la massima attenzione alle bellezze artistiche di Fano.